A cominciare dal lunedì prossimo consentiamo la riapertura delle aree gioco per i bambini. Ripartono i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche i centri estivi per i bimbi nella fascia da zero a tre anni. Ripartono anche i campi estivi. Prepariamoci ad una campagna di massa per le vaccinazioni. Sopra i 65 anni dovrà essere obbligatorio. I sintomi che hanno le malattie influenzali sono più o meno come quelli del Covid e quindi noi ci stiamo preparando anche per fare decine di migliaia di test rapidi per distinguere da subito influenza da Covid-19. Ci sarà un lavoro enorme da fare per le scuole, per l'epidemia influenzale e quant'altro. Prepariamoci e cerchiamo di collaborare ovviamente.